Siamo qui a Cleto a Fotoculti e parliamo con Diana Scalfati, documentarista appassionata soprattutto di escursioni sotto il punto di vista marino. Cosa ci puoi raccontare di Fotoculti? Fotoculti per ora è stata un'esperienza interessantissima perché ho messo insieme persone con idee e modi di fotografare diversi e ci siamo tutti insieme qui a fare l'esperienza di arte fotografica o fotografia artistica insieme. Che cosa ne pensi del tema risvegli? Risvegli è un tema difficilissimo e super ampio però allo stesso tempo ognuno lo può aspettare in maniera completamente differente. E per un documentarista è mega super difficile però sto a provare. Come pensi che questo tema potrà aiutare a descrivere Cleto? Cleto è un borgo molto interessante e allo stesso tempo difficile da raccontare perché molte delle persone che ci vivono amano la storia del paese però forse non riescono a vedere e apprezzare la bellezza del presente e quindi forse è un tema interessante per vedere, per riscoprire delle cose che magari nel presente non si riescono a vedere. A presto! A presto! A presto! A presto! Grazie a tutti.